sei al manchester city ormai da tantissimo tempo e fai parte della della famiglia del manchester city nel questo tentativo di vincere di nuovo la champions league siete così vicini sarebbe una cosa grandiosa per per il club come ti senti come vi sentite buonasera si è da parecchio che sto con questa squadra per me è stato qualcosa di incredibile gli otto anni che ho passato qui sono stati tanti momenti bellissimi partecipiamo a questa competizione da tanto tempo ancora non l'abbiamo vinta è l'unica cosa che ci viene sempre ricordato però penso che siamo sempre stati molto molto consistenti sempre eravamo sempre lì bisogna trovare il modo per vincerla e chiaramente è quello che vorremmo fare dobbiamo vincere per i giocatori per il club per i tifosi e vincere sarebbe qualcosa di eccezionale l'allenatore in zaghi ha detto che il manchester city è una delle migliori squadre in europa e che siete i favoriti per vincere domani però quale fattore particolare quale caratteristica particolare al manchester city per essere definita la squadra migliore in europa perché domani è 11 contro 11 ringrazio allenatore ma abbiamo lavorato veramente duro per fare tutto ciò che possiamo fare abbiamo giocato tante partite abbiamo vinto tanti trofei in inghilterra e tutti più o meno in questa sala sanno come giochiamo che tipo di approccio difensivo offensivo abbiamo e cerchiamo di giocare allo stesso modo domani chiaramente ci sono delle sfide nel corso della stagione diverse sfide ma considerando appunto il fatto che c'era anche la coppa del mondo in mezzo alla stagione quanto è soddisfacente che soddisfazione da per te per la squadra essere una sola partita dalla tripletta beh sì c'è stata questa pausa della coppa del mondo è un po strana come cosa ma da un'altra parte non è stato strano per niente perché quando si torna dalla coppa del mondo si riprende a giocare ognuno poi magari a la vede in modo diverso ma io chiaramente sono orgoglioso sono molto felice di ciò che abbiamo fatto come squadra cosa abbiamo ottenuto è veramente qualcosa di incredibile domani ci manca quest'ultimo passo per raggiungere un traguardo veramente incredibile però ripeto abbiamo giocato veramente bene tanti giocatori hanno fatto una stagione incredibile quindi siamo comunque contenti hai parlato molto di questa chimica che c'è nella squadra con determinati giocatori ma quando 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 vi siete incontrate l'estate no no mi sta bene mia moglie credo di sì non non riesco a spiegarlo bene a volte c'è un bel feeling con un giocatore si capisce cosa vuole da te cosa lui capisce cosa posso offrire io però si è scattata subito bene con a land è iniziato subito a segnare tantissimi goal e questo ha aiutato la squadra e questo è qualcosa che va avanti dall'inizio dell'anno soprattutto poi anche nelle ultime partite quindi spero che faccia il suo dovere anche domani come va ci vorrà molta pazienza c'è chi dice che vorrà molta pazienza domani che tipo di partita ti aspetti sappiamo come gioca l'inter sono una squadra molto compatta giocano bene col 5 3 2 di norma e hanno sempre questo sistema con il loro allenatore hanno due attaccanti buon possesso di palla e terzini che corrono molto sulle fasce quindi sappiamo bene come lavorano come come giocano sappiamo che difendono benissimo quindi non ci aspettiamo una partita aperta non succede spesso nelle finali del resto quindi dobbiamo capire che dobbiamo innervosirci se le cose non vanno subito come vogliamo e credo che all'inizio non ci saranno molte occasioni da goal dobbiamo continuare a giocare come giochiamo sempre dobbiamo stare tranquilli dobbiamo giocare fare il nostro gioco alla fine credo che troveremo dei varchi e troveremo avremo delle occasioni segneremo come lo vedi l'inter a livello tecnico che di solito giocano con la difesa 3 che può diventare a 5 quando si difendono che come si trova il manchester city a giocare con una squadra che gioca questo tipo di con questo tipo di formazione può essere un po insolita come cosa ma negli ultimi 5 6 anni che ho giocato nella premier league tanti delle squadre di fascia bassa giocano con con 5 in difesa magari anche col 5 4 1 però loro giocano con due attaccanti questo rende le cose magari un po diverse rispetto a quello a cui siamo abituati nella premier league ma il vantaggio che ha l'inter rispetto ad altre squadre in inghilterra è che sono abituati a giocare così sempre questo è un vantaggio per la squadra perché ogni giocatore sa quale ruolo cosa deve fare quindi questo richiederà uno sforzo da parte nostra cosa significa per il city vincere il champions league è un sogno o un'ossessione come ha detto qualcuno forse entrambe le cose credo che ogni giocatore professionista voglia vincere la champions league vuole arrivare lassù con la sua squadra la squadra vuole vincerlo il giocatore vuole vincerlo quindi se si vince la champions league si raggiunge uno dei traguardi principali uno dei maggiori traguardi che si possono raggiungere come squadra come giocatore competere praticamente ogni anno in questa questa competizione è qualcosa di fantastico perché ha giocato contro le squadre migliori del mondo i giocatori migliori del mondo domani possiamo arrivare finalmente a questo traguardo parlavi prima i tuoi otto anni al club hai giocato la semifinale con te la real madrid della finale col celsi avete perso domani c'è un'altra finale pensi che ci sia qualcosa diverso quest'anno tu e tutta la squadra pensate che avvertite un'atmosfera diversa questo è qualcosa a cui potrò rispondere domani e ancora non lo so tre anni fa abbiamo perso la finale succede non eravamo all'altezza quel giorno bisogna accettarlo non posso pensare solo ai momenti positivi della mia carriera e pensare che tutti i momenti negativi spariscono vanno accettati anche quelli adesso fortunatamente abbiamo un'altra opportunità per dimostrare che siamo in grado di vincere questa competizione e bisogna vederla così secondo me ultime due domande domanda simile a livello di squadre come vi siete preparati nella prima finale quella di oggi la preparazione è un po diversa vi sentite diversamente è facile dire magari abbiamo imparato da quella volta adesso quindi ci sentiamo più pronti ma io non avverto molte differenze forse ora è il fatto che abbiamo giocato una finale la settimana scorsa la settimana è un paio di anni fa avevamo due settimane di pausa tra una partita e l'altra quindi può essere una cosa positiva giocare 90 minuti contro il Manchester United una settimana prima ma come mi preparo individualmente io personalmente non voglio fare troppe cose diverse diventa un po una settimana un po troppo piena troppo quindi cerco di mantenere le cose normali congratulazioni per aver raggiunto la finale vorrei chiederti dal punto di vista fisico pensavamo all'inizio della stagione ad agosto a settembre quando è iniziato la fase a girone che sarebbe stata una stagione molto difficile anche con la coppa del mondo ma avete speso tante energie infatti avete già vinto campionato e coppa d'inghilterra che tipo quanta energia avete ancora in corpo per giocare questa finale che è il 10 giugno insomma parecchio avanti nella stagione beh tutti avranno abbastanza energie domani per quanto riguarda il livello fisico se sei in forma puoi giocare tutto l'anno a livello mentale a volte può essere più difficile perché se sei in buona forma fisica si può giocare tranquillamente ogni 3-4 giorni mentalmente è più stancante perché a volte ci vuole una pausa però non lo considero un problema in questo tipo di occasioni c'è talmente tanta motivazione talmente tanta energia sarà così per entrambe le squadre dopo una finale magari le cose cambiano un po' perché poi la stagione finisce e ci si rilassa però non è assolutamente un problema questo c'è talmente Grazie a tutti.